L'amore cristiano, dall'enciclica di Giovanni XXIII, Mater et Magistra, del 1961, numero 237. Quando si è animati dalla carità di Cristo, ci si senti uniti agli altri e si sentono come propri i bisogni, le sofferenze, le gioie altrui. Conseguentemente, l'operare di ciascuno, qualunque sia l'ambito e l'oggetto in cui si concreta, non può non risultare più disinteressato, più vigoroso, più umano, poiché la carità è paziente, è benigna, non cerche il suo interesse, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto spera, tutto sopporta.